ok arrivati al mare stamattina onda di levante portato attrezzatura un po più leggera la nrx il fuego 4000 proviamo inizialmente un po gli artificiali che ne sono arrivati che abbiamo visto farà naturalmente il provato per voi a questa acqua è l'artificiale da 15 di river queen molto personalizzata come vedete è perfetto per pescare in queste condizioni a caccia di serra e barra poi mi ha mandato anche questo qua ed anche una gomma che è questa qua e quindi nella semi sfruta ed andare a caccia di barracuda perfetto per questa attrezzatura proviamo subito lancio ok sembrerebbe andare bene poi lo vedremo con la luce del giorno ho pescato un bel po con il carangolo aveva avuto pure qualche toccata ed aveva abraso un po il filo ma che barracuda timido sempre un long periodo rapa la max rapta 15 ma che bello viscio oh madonna 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 bel pesce sul barracuda bel pesce sul max rap 15 madonna che botta cazzarola eccolo bello non è potentissimo all'inizio sembrava più forte bel pesce bel pesce e quindi tira tira tira. tira. tira tira il max rap 15 bello barracuda ecco la prima botta fortissima e violenta ma poi si è auto rilasciata il filo l'avevano pure un po' abbrato bel pesce lì questo qua naturalmente lo rilasciamo un po' trattenuto di questa taglia almeno questo è il mio pensiero un bel pesce bello bello provo nuovamente con l'artificiale di river qui ho acclarato la presenza dei barragù e vuol dire vedere se il movimento di quest'artificiale nel super palettone attira questo pelatore come al solito il max rap ha dato un via vediamo se questo qui ha capacità di cattura verso questo pelatore ecco qua questo è l'artificiale che mi ha inviato river queen questo è il primo pesce con questo artificiale e ci viene un bel provato per voi a questo punto qua speriamo di non perderlo un bel pesce un barra eccola qua eccola qua un bel barragù con il nuovo artificiale di river queen trovato per voi da 15 la misura che gli avevo chiesto io super palettato un bel pesce insomma è un bel artificiale che già alla prima uscita è un bel peso super personalizzato le fangler barragù sono sempre abbastanza complicati da rilasciare se ci riesco questo è stato abbastanza facile e dura si riprende via se n'è andata ok perfetto bene cattura effettuata con l'artificiale di river queen eccolo qua il nostro bellissimo esemplare da 15 con il colore dubbià richiesto da me super personalizzato ottimo per pescare il mare come abbiamo visto bella colorazione belle armature eccolo ecco un altro sempre l'artificiale di river qui questo è un bellissimo pesce bello questo qua questo tira come un dannato ragazzi voi non dite che non ho ferrato questo se l'è andata a prendere da solo l'artificiale praticamente da quasi fermo eccolo qui l'onda giusta eccolo bello bel pesce bel barracore questo qui si era messo a tirare come un dannato ecco anche questo con l'artificiale di river film 15 ok benissimo artificiale personalizzato con colori su richiesta e misura su richiesta via bene io direi che l'artificiale di river queen abbiamo visto in questo provato per voi e vedremo anche nel video completo di questa pescata ha ampiamente superato la prova eccolo qua un bel 15 con una bella palettazza occhi in 3d colorazione scelta da me gpa e personalizzato linea slim eccolo che porco giu da cane madonna santo non no 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 Sì, sì, sì. allora si procede al rilascio anche di questo qui giornata memorabile naturalmente la maledizione del primo pesce continua perché Simone ne ha appena perso uno che gli ha tagliato addirittura il filo super maledizione ma noi li liberiamo ugualmente perché siamo responsabili fermo guardano ecco qui vai vai c'è anche c'è anche c'è signore e signori forse l'abbiamo interrotto abbiamo interrotto la catena negativa dei sì l'abbiamo interrotto ormai arriva e arriva ecco non ci possiamo credere ma la maledizione del primo pesce finisce qui eccola qui finalmente dopo averglielo tagliato in questa pescata Simone eccolo qua interrompe la maledizione e cattura insieme all'ora naturalmente la liberiamo eccolo qua va va ti aiuto e vai ehi io l'amadosco ma come cazzo mangiano ma mangiano pochi malamento porco giuro sempre sullo shoreline gli ami sono a posto è tutto ok sono loro che mangiano vanno gli aranciati vicino grazie a tutti Grazie a tutti.